Ha ascoltato tutti gli interventi dei colleghi consiglieri dell'opposizione con attenzione ed in silenzio e poi si è alzato ed ha preso la parola. Francesco Dolce, consigliere comunale del gruppo PD, ha parlato a nome e per conto di tutta la maggioranza, unico intervento politico. Si è rivolto ai colleghi di opposizione ed ha chiarito il punto, la maggioranza non è più composta da 16 persone, è vero, non abbiamo i numeri e questo è un dato di fatto incontrovertibile. Ma non le ha mandati a dire ai colleghi di opposizione, ludendo e mai nominando il fatto che da quattro mesi non riescono a trovare la quadra per eleggere un presidente in settima commissione. Non le ha mandati a dire riferendosi a tutti i mal di pancia che nascono all'interno dei gruppi eterogenei e variegati, così come in maggioranza anche in opposizione, senza toni forti, senza alzare la voce e con voce ferma e decisa. Il sorriso che aveva però mentre parlava ai colleghi, quando li ringraziava, per il senso di responsabilità sempre dimostrato, una sorta di bastone e carota, anche quando gli diceva che la battaglia politica su una delibera tecnica probabilmente è stata inopportuna, senza voler fare il maestrino, ha ribadito perché per primo io ancora ho tanto da imparare. Il sorriso si è così smorzato quando si è rivolto al primo cittadino. Lo ha guardato negli occhi e ha utilizzato la parola auspicio, la stessa del sindaco ad inizio intervento introduttivo. Che questo mio intervento sia un auspicio, ha detto Francesco Dolce, ed invece aveva tutto il sapore del monito. Non mi sento di essere la stampella di nessuno, nonostante io faccia parte della maggioranza, io sia stato eletto con l'alleanza. La mia onestà intellettuale mi obbliga a votare solo ciò che ritengo giusto. Il nome è per conto del principio più alto che è il bene della città. Ed ha continuato con un outing sui problemi dell'alleanza che non decide più in maniera corale. Ha raccontato come da presidente della Commissione Cultura, lui e di colleghi che compongono la quinta commissione consigliare, non hanno mai ricevuto i programmi degli eventi che si sono succeduti durante l'estate, di come non sono stati mai messi nelle condizioni di poter bagliare, discutere e dare il proprio contributo nelle decisioni. E poi ha affondato il colpo sulla stagione teatrale che pare sia stata organizzata in proprio, senza coinvolgere la Commissione Cultura, senza presentare il programma da comporre, senza aver visto nulla. Ha descritto un uomo solo al volante, lontano da chi lo ha fatto eleggere. Questo sindaco ha descritto Francesco Lolce, lontano da quel concetto di partecipazione, cavallo di battaglia della campagna elettorale. Sulle scelte ci si incontra poco, ha detto, questo è sintomatico di un malessere, che è uscito fuori preponderante così forte con in un sol colpo. Un intervento elegante nei modi e nello stile, durissimo nei contenuti, un rimprovero sonoro come uno schiaffo.